Proprio ieri è stata pubblicata la relazione annuale del DIS sull'attività di intelligence dove il tema della cyber sicurezza prende ampia parte, io seguo questo tema da anni, cinque anni fa era un paragrafo, adesso prende i titoli di testa. E dobbiamo anche ricordare che un pezzo del DIS è passato proprio nell'agenzia, il vice direttore Baldoni, adesso oggi è il direttore generale. Qual è l'attività del DIS, del comparto sul tema? Bene, intanto grazie, buongiorno a tutti e saluto l'amico Marco Ludovico che ci ha visto, la nostra collaborazione è risalente nel tempo. Sì, ovviamente l'agenzia è una costola dell'intelligence, del comparto, però ci tenevo anche a fare una riflessione preliminare, quando almeno nella prospettiva dell'intelligence noi guardiamo alla cyber sicurezza come a una delle componenti del tema sicurezza nazionale. Per noi, rispetto a quello che è la mission della CN, il tema della minaccia cyber è solo una delle componenti, è una delle tasselli del puzzle che in qualche modo compongono l'attività di monitoraggio e di lettura della minaccia del rischio che incombe sul nostro paese, quindi in qualche modo lo spazio cyber per noi rappresenta una delle componenti che in qualche modo sono spesso, frequentemente, prese di mira da attori che per quanto riguarda l'azione di monitoraggio svolta e di contrasto svolta dall'intelligence sono attori che si muovono a tutto campo. L'esperienza dimostra che i soggetti ostili che sono particolarmente all'attenzione del comparto, mi riferisco generalmente a soggetti statuali, stranieri ovviamente, che spesso si muovono anche utilizzando, veicolando operatori privati, parlo ovviamente ma non dico nulla di segreto quando dico che appunto potenze straniere utilizzano, lo dice esattamente la relazione pubblicata i soggetti stranieri che sono appunto la Cina piuttosto che la Russia, cioè quelli che siamo abituati a considerare come soggetti all'attenzione del comparto utilizzano il dominio cyber come una dei campi di attacco a cui però si associano campi di ricerca informativa che utilizzano anche strumenti convenzionali. Perché è una strategia globale perché è di un attore statale. La strategia di spionaggio, che sia di spionaggio solo a fini economici, che sia di spionaggio solo a fini militari o politici, è una strategia che gli attori ostili, quelli attenzionati dall'intelligence, muovono a tutto campo. Quindi è chiaro che l'approccio dell'intelligence non può che essere un approccio di tipo olistico rispetto alla minaccia. Quindi sì, l'attenzione al dominio cyber però diciamo analoga attenzione a quello che noi chiamiamo per esempio la minaccia che si avvale di strumenti convenzionali, cioè il cosiddetto human in termini tecnici, c'è l'human intelligence. E poi c'è la minaccia ibrida. E la minaccia ibrida, che appunto è una minaccia che appunto come dice la parola stessa è anche una difficoltà a essere formalizzata e in qualche modo anche decifrata, perché è una minaccia composita. Ecco, l'azione dell'intelligence è un'azione che è sempre più rivolta a questo settore, in una dimensione in cui appunto la sicurezza, cioè esiste una cyber sicurezza, ma noi siamo più portati a considerarla come una sicurezza a tutto campo. Anche perché appunto l'obiettivo, la mission del comparto è proprio quella di preservare, di mettere diciamo in sicurezza quello che è il sistema paese. Quindi gli interessi economici, militari, politici che in qualche modo sono alla base della tenuta democratica del nostro paese. Quindi diciamo il nostro orizzonte è un orizzonte un pochino più ampio rispetto a un settore che non guarda solo alla tecnologia, non guarda solo al tema della resilienza, che pure ovviamente è fondamentale, però guarda diciamo in qualche modo cerca di anticipare, prevenire quella che è una lettura appunto intelligente della postura dell'attore ostile. Quindi è importante che il comparto si muova sempre in una dimensione di approccio globale, altrimenti è anche difficile andare poi a intercettare il target che può essere un target che poi magari ha una destinazione finale in un attacco cyber piuttosto che invece in un attacco di tipo convenzionale. Quindi è chiaro che, ma questo diciamo parlo anche a chi lavora nel settore, siamo diciamo in un contesto diciamo di tecnici, è chiaro che rispetto allo strumento convenzionale, lo strumento del cyber è uno strumento che presenta dei vantaggi anche per l'attaccante. Intanto a livello, cioè presenta un elevato livello di anonimizzazione del soggetto che si muove, dell'attore ostile, quindi c'è una maggiore difficoltà anche da parte dell'intelligence nell'attribuire una responsabilità, non solo in termini politici, perché sapete bene che la responsabilità in termini politici è un'utopia, ma anche proprio in termini di possibilità diciamo di prevenire l'esfiltrazione di dati e soprattutto di attribuire una responsabilità a volte anche di danno concreto rispetto diciamo a delle... Quindi in termini giuridici, giuridici, esatto, in termini anche di responsabilità civile. E poi perché evidentemente l'attacco cyber ha diciamo in termini di costi, diciamo a costi ridotti rispetto a quello che è un attacco convenzionale, a quello che comporta è mettere in campo per esempio una rete di interlocuzioni, un approccio diciamo di tipo lobbistico che diciamo normalmente richiede tempo e richiede anche risorse sul piano personale e sul piano finanziario. Però evidentemente appunto noi l'esperienza dimostra che mai appunto attori strutturati pongono in essere come dire azioni di minaccia strutturata di tipo che non siano appunto complesse. Quindi accanto all'azione di aggressione a quello che è diciamo a fini diciamo di esfiltrazione di dati sul piano cyber c'è sempre un'azione che è composta, composta anche da appunto quello che è appunto lo strumento di tipo convenzionale. Quindi anche l'allerta a quel punto diventa composto per voi. Esatto, quindi l'allerta diventa un'allerta composta, quindi un'allerta che richiede e qui appunto vengo a uno dei temi che tu lo sai diciamo sul versante della sicurezza in senso ampio è un tema fondamentale, cioè la modalità, il modello di approccio che gli operatori che operano nel campo della sicurezza, che siano law enforcement, che siano intelligence, che siano partenariato privato, debbono avere rispetto al tema diciamo della risposta e della prevenzione, cioè il tema del coordinamento, nel coordinamento nell'acquisizione delle informazioni e nel coordinamento nelle azioni a mitigazione del rischio. Che è un grande tema. Che è un grande tema, un tema diciamo che si pone ogni qualvolta appunto esistono interferenze, ovviamente dico in senso positivo, esistono competenze plurime che insistono su un settore. D'altra parte la sicurezza, la cyber sicurezza anche, ma la sicurezza in genere è la risultante di tanti fattori che sono appunto, che debbono essere, diciamo, entrare in relazione tra di loro. Quindi la stessa modello di lavoro su cui diciamo il comparto ormai si sta muovendo da anni è un modello di lavoro che tende a fare sinergia il più possibile, non solo col mondo diciamo degli attori e dei protagonisti della sicurezza, quindi appunto col mondo oggi della CN, che appunto è un nostro partner fondamentale in questo tema, col mondo del law enforcement ovviamente, ma anche col mondo diciamo delle imprese, col mondo del partenariato privato, col mondo delle università, perché come diceva appunto la collega, oggi come oggi, quando parlavo appunto di un approccio olistico al tema diciamo della minaccia, oggi come oggi, una delle azioni che più facilmente, insomma, fanno registrare tentativi, diciamo di infiltrazione a monte, in un contesto di sviluppo del paese, è ad esempio tutto quello che è l'azione di penetrazione nel mondo della ricerca. In un paese come il nostro, che è sempre, diciamo, a corto di risorse, in cui la tecnologia, la tecnologia che soprattutto si sviluppa in primis nel mondo delle accademie. Ci sono delle bellissime realtà da questo punto di vista. Ci sono delle bellissime realtà, ci sono delle bellissime realtà, spesso purtroppo in sofferenza dal punto di vista delle risorse. E queste sono le prime realtà che sono prese di mira da soggetti che, in qualche modo, attraverso proprio il finanziamento a progetti di ricerca, soggetti ostili, si precostituiscono l'ingresso in una dimensione che poi un domani è anche una dimensione cyber, perché è chiaro che quando tu contribuisci alla realizzazione di un progetto tecnologico per la messa in sicurezza di un'infrastruttura, magari finanziando un'università, un centro di ricerca, è chiaro che poi hai le chiavi per un domani entrare nell'assetto, nell'architettura di un'infrastruttura critica di un paese, perché ne conosci, diciamo, le fondamenta, sai come è stato costruito, sai quali sono i mattoncini che sono stati messi per mettere in sicurezza quell'infrastruttura. Quindi da questo punto di vista, per questo dico, l'azione di prevenzione, l'azione di intelligence che il comparto svolge, è un'azione che si sviluppa molto a monte, si sviluppa già, diciamo, nella dimensione di interlocuzione con quelli che sono, per esempio, chi gestisce la ricerca in questo paese, proprio per cercare di sviluppare una sensibilità anche rispetto a questi temi. Cioè, attenzione alle persone con cui parlate, attenzione a chi finanzia certi progetti, attenzione a chi sono, diciamo, i ricercatori che vengono ingaggiati. Perché non sempre chi porta soldi è un benefattore per mettere in questo paese. Io vorrei chiedere solo una cosa, che è una domanda politica, ma naturalmente io la chiedo su un profilo strettamente tecnico. Da tempo ci rammarichiamo del fatto che non abbiamo la possibilità, rispetto alla minaccia cyber, di attaccare. Possiamo soltanto difenderci. Però, come nel calcio, ci sono squadre che, fondandosi sulla difesa, hanno vinto il campionato, ma non è che si può fare sempre. Si può lanciare una riflessione su questo tema o forse ancora presto? Beh, diciamo, adesso dipende anche lì. Il concetto di attacco è un concetto, diciamo, un po' su cui ragionare. Intanto bisogna capire, cioè si attacca nel momento in cui, diciamo, si ha evidentemente un certo tipo di bisogno. Ma a volte può essere più importante una posizione di osservazione rispetto a una posizione di attacco smaccato. Cioè l'azione, quelle che noi chiamiamo tecnicamente le manovre, diciamo, informative, no? Le manovre operative, a volte sono manovre che hanno proprio come finalità quella di un'osservazione molto silente nel tempo, che a volte paga molto di più di un approccio aggressivo, di una postura aggressiva rispetto, diciamo, a quella che tu parlavi di un attacco, no? Ma a volte, diciamo, essere presente in un contesto cyber significa avere, diciamo, no? A volte anche per mesi, non dico addirittura per anni, no? A volte può portare benefici maggiori che, diciamo, avere un approccio di tipo più aggressivo, più muscolare rispetto a soggetti che poi, diciamo, sono molto smart, no? Quindi noi, diciamo, facciamo cateraccio e siamo sempre, diciamo, da questo punto di vista siamo dei campioni del cateraccio. Però, insomma, credo che questo è anche una tecnica che abbia apporti dei risultati. Questo, insomma, anche, ripeto, senza svelare nulla di segreto posso dire che, insomma, la nostra azione, diciamo, di disturbo e di controllo del territorio cyber è un'azione che paga. Ovviamente, come diceva qualcuno, anche dei ministri, ovviamente diciamo, non si sanno, cioè, noi siamo contenti quando non succede nulla, no? Quando qualcosa e ovviamente le cose non si sanno. Però questo, diciamo, è la mission che ci compete. E quello, ecco, un'altra cosa che ci tenevo, appunto, a soffermarmi anche sul concetto che ti dicevo, è quello del coordinamento, no? Perché, ecco, una cosa che in questo paese a volte manca, no? Noi siamo, diciamo, per definizione, un po', diciamo, individualisti, no? Un po' dei battitori liberi. Quindi ognuno poi, insomma, tende a, diciamo, a cavalcare, cavalcare, diciamo, sul proprio cavallo, insomma, senza, senza tener conto di quello che il campo, insomma, è un campo. Il famoso non fare sistema. Esatto. Quindi, su questo, ecco, ormai non, credo che non ci possiamo più permettere, a parte, diciamo, situazioni di crisi come questa, che, che forse, appunto, come un po' il tema, dalle situazioni di crisi, no? E anche come per la pandemia. Forse dobbiamo anche, nella tragedia, a volte, cogliere anche delle opportunità. La pandemia è stata, diciamo, un'opportunità di riflessione, anche un'opportunità per, per riuscire, diciamo, a mettere, a fare sistema, a mettere in fila delle cose che, forse, in situazioni di mancata emergenza non saremmo riusciti a fare, ma questo anche qui fa parte del nostro DNA, no? Riuscire a essere molto, diciamo, creativi e riuscire a fare, a fare sistema quando, quando in situazioni di emergenza. Questa, questo tipo di, eh, di esperienza che adesso stiamo vivendo da, da, da un mese a questa parte, eh, già, diciamo, per certi aspetti, secondo me, sta dando i suoi frutti. Cioè, noi abbiamo dovuto, rispetto, tornando al tema del cyber, no? Lo diceva la, 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 tutto sui stessi giorni prima. Abbiamo dovuto, in qualche modo, velocemente, mettere, eh, fare sistema rispetto a strumenti, quelli, per esempio, di coordinamento tra la CN, l'agenzia e il comparto, no? Eh, abbiamo, eh, erano da costruire, erano da costruire, no? L'NCS, la, la, diciamo, tutto quello che poteva essere, no? Anche, immaginati, una, una difficoltà, no? Di, di far dialogare, no? Eh, di, di trovare un punto di equilibrio tra, l'esigenza di resilienza, no? Mettere in sicurezza un sistema che è sotto attacco e magari, eh, mettere in sicurezza chi su quel sistema stava svolgendo un'operazione sotto copertura, no? Quindi abbiamo dovuto trovare velocemente, no? Momenti di confronto, di incontro e, e, e credo, insomma, che, che, che ci stiamo, ci stiamo riuscendo, ci stiamo riuscendo bene. Quindi, come dire, anche da situazioni di crisi, anzi, spesso situazioni di crisi possono essere, diciamo, del, degli acceleratori, no? Di, 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 di prassi virtuose. E quindi anche di forza. E anche di forza. E questo spero che sia anche, diciamo, nell'interlocuzione che in questo momento è molto attiva con, con il comparto, diciamo, del, del partenariato privato. Eh, anche qui il nostro paese, eh, diciamo, ha una tradizione un pochino, eh, diciamo, fragile, ritardata, no? Cioè, il rapporto di collaborazione, eh, partenariato pubblico privato è un pochino risente un po' di, di alcune incrostazioni, no? Di, di alcune diffidenze reciproche. Eh, nel campo della sicurezza si è sviluppato, della sicurezza in senso tradizionale, si è, si è sviluppato ormai, diciamo, un discorso un po' più strutturato. Eh, il rapporto intelligence, partenariato privato, eh, eh, diciamo, è partito un po' più tardi. Però, io, diciamo, posso testimoniare, perché sono un po' di mesi, quasi, meno di un anno che, insomma, adesso sono entrata in questo mondo, che, invece, eh, questo rapporto si sta strutturando anche qui in maniera molto veloce, a guisa di quello che avviene, in paesi, eh, di tradizione, no? In, eh, in cui, eh, diciamo, anche il semplice cittadino in qualche modo è visto come una componente dell'intelligence, no? Ecco, ma non parlo di paesi, ovviamente, di, diciamo, di, 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 parlo anche di paesi anglosassoni, in cui è molto più frequente. O la Francia. O la Francia. Insomma, paesi in cui, capito, c'è meno diffidenza, eh, il, il mondo dell'intelligence non è visto come solo il mondo dello spione, perché in un approccio, insomma, in un, in questa, diciamo, concezione un po' dello spionaggio come qualcosa di negativo, eh, d'altra parte la tattica del whistleblowing per noi è una tattica acquisita di recente, no? Esatto. Proprio anche per una pregiudiziale ideologica che noi abbiamo rispetto al fatto che non si fa la spia, no? Eh, però anche qui, diciamo, è, 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 è un approccio culturale che deve cambiare. Ovviamente in una sinergia che deve essere, cioè, ci deve essere, cioè, ci deve essere, diciamo, un approccio di fiducia dell'istituzione rispetto, diciamo, al, al, al mondo del privato, così come ci deve essere, diciamo, un approccio di affidamento anche del privato rispetto al mondo dell'istituzione, cioè capire che si sta, eh, ci si sta muovendo verso una direzione, cioè che la messa in sicurezza di un'infrastruttura produttiva, eh, è, diciamo, una, eh, una mission che, eh, di cui beneficiano tutti nel loro complesso, no? Eh, cioè, mettere in sicurezza un'infrastruttura critica per un'azienda ha un costo, ha un costo in termini personale, ha un costo in termini, eh, di impegno economico, però è un beneficio che, diciamo, si, eh, si riflette sull'azienda stessa e sul sistema paese, ecco, riuscire a ragionare in termini di sistema. Questo contesto, eh, questo contesto, credo che sia un contesto, ti ripeto, io penso sempre che dobbiamo leggere, no? Alcune... Insomma, il famoso detto si fa di necessità a virtù. Sì, esatto. E questo però è un'informazione, io seguo questo mondo, come voi immaginate, da quasi vent'anni, sapere che finalmente si dialoga anche in modo serrato fra soggetti che una volta forse neanche si rispondevano al telefono è un fatto decisivo, lo dico senza retorica, per la crescita di un paese. Esatto. Grazie, grazie al prefetto Alessandra Guidi per questa molto dettagliata, eh, relazione. Grazie a tutti.